Anche il WISP ha partecipato alla presentazione del rapporto Ecopneus 2015. Economia circolare è un gioco di squadra, ha detto Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus. Una squadra della quale fa parte anche il WISP e lo sport sociale, grazie ad una serie di buone pratiche ed impiantistica compatibile, da quello di Siena, un campo di calcio nel carcere Santo Spirito, a quello per l'attività equestre a Todi, ottenuti grazie all'impiego del granulato da PFU, pneumatici fuori uso. WISP ed Ecopneus condividono un sistema di valori fatto di legalità e sostenibilità ambientale, ha detto Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP. Una visione comune che in questi anni di collaborazione ha fatto crescere competenze, professionalità e credibilità e allo stesso tempo ha concretizzato un rapporto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, tra istituzioni e terzo settore, reti solidali tenute insieme dall'idea di bene comune intorno al valore sociale dello sport. Grazie! fortsette! Grazie mille!